ragazzi oggi esperimento sociale vi farò vedere che molte volte la caduta della connessione non è legata ad android auto al cellulare al cavo ma proprio a una questione secondo me di campi elettromagnetici vedete sto guidando tra poco passerò in un posto dove mi cade sempre android auto quindi non è colpa del dongle o del gadget ma è colpa di qualcosa che ha a che fare con i campi elettromagnetici guardate tra poco cadrà la connessione hai visto assurdo è sempre così tutte le volte